in qualche modo magari a vendere in modo autonomo l'immobile. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Pesco, è scritto a parlare del grosso di nuovo sull'ordine dei lavori. Le chiedo un rinvio a prossima seduta di questo argomento, possibilmente a settimana prossima, quindi un voto procedurale. Grazie. Va bene. Allora, poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà... Oppure possiamo andare avanti Onorevole Dalgrosso, volete fare qualche altro intervento di illustrazione degli ordini del giorno? Oppure sospendiamo? No. Ok. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà tra 5 minuti alle ore 14 e... Qui c'è un orario, qui c'è un altro. 14 e 45. No, no, 5 minuti, non è 20, è 5 minuti. 14 e 45, 46, insomma adesso qui vedo due orari diversi. La seduta è sospesa. Geo, gio, gio, gio. La seduta è fatto se rogare. Grazie. Grazie. Grazie.